Il presidente Lindbergh affidò la carica di cancelliere ad Adolf Hitler. E Reisland venne incendiato. Immediatamente vennero istituiti i lager di Dachau e Brandenburg per gli oppositori politici. Si costituì la direzione per la purezza della razza. E si intaccati vennero sopra a sé e iniziò da subito la persinuzione sistematica degli ebrei. I loro negozi dovevano essere boicottati. Il 10 maggio per purificare la vita di Dachau. Il 10 maggio per la vita di Dachau e Brandenburg per la vita di Dachau e Brandenburg per la vita di Dachau. Il 10 maggio per la vita di Dachau e Brandenburg per la vita di Dachau. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.